Ciao ragazzi e bentornati in un altro video di Grey Warden 176 Oggi qui come promesso settimana scorsa per continuare con le nostre combo relative a Matmik Avevo promesso che se avessi scoperto una combo nuova o qualcosa ve l'avrei mostrato E grazie ad un iscritto su Youtube e se non è iscritto al canale lo invito a farlo adesso pubblicamente Ho scoperto una nuova combo che ci permette di fare ancora più facilmente quella che abbiamo fatto recentemente Per andare ai Floodgate Quindi carte come barriera dimensionale, come terreno dell'altra dimensione e senza antimagia Carte in questo modo Riusciamo a farlo ancora più semplicemente rispetto a come avevo mostrato io con diametro circolare e un extender Ad esempio possiamo farlo anche semplicemente con un circolare più un extender Ovviamente la combo ne risente, ci sono dei punti problematici ma lo vedremo insieme Ovviamente prima di ricominciare vi invito a mettere mi piace al video, seguire il canale per i mai sempre aggiornati Commentare sotto anche voi se avete notato qualche altra combo, avete qualche altra idea e anche per le vostre opinioni E sempre per ricominciare vi voglio presentare una new entry che è il nostro link ai brains Procurata una copia fondamentalmente giusto per Yusaku sullo sfondo Yusaku versione diciamo umana e non metaverso Se non sarebbe stato playmaker Carta bellissima, tuttora devo trovargli un'effettiva utilità Forse in Ignister, in Matmac non ne sono troppo sicuro Ma non ho grande idea al momento, ci devo lavorare Se qualcuno di voi ha qualche idea me lo faccio sapere Allora partiamo Abbiamo detto circolare più un extender va benissimo su trazione Vediamo quello che succede Ovviamente dobbiamo per prima cosa fare effetto circolare Mandiamo al cimitero il nostro fedelissimo sigma Che abbiamo mandato al cimitero E lo evochiamo circolare Effetto di sigma lo evochiamo Effetto di circolare aggiungiamo E andiamo ad aggiungere superfattoriale Superfattoriale presente Attiviamo l'effetto di sottrazione Targettiamo sigma va bene uguale E lo evochiamo Adesso andiamo a fare un paio di link Qualcuno con sottrazione e con circolare Mi raccomando non sigma Entra di voto che ci loccherà ovviamente al link 2 Sai novità Effetto del discepolo Tributiamo di voto per pescare Non rimettere in fondo Tanto vogliamo mantenere superfattoriale Devoto ci fornirà Devoto ci fornirà due token Che andiamo a mettere qui Ne usiamo subito uno Con discepolo Wicked Utilizziamo il secondo Solo il secondo Per andare a fare Link Uribo Il che farà partire l'effetto di Wicked Banniamo come sempre Vi consiglio di voto link Per aggiungere Diametro E visto che ancora non l'abbiamo fatto la normal Possiamo fare normal diametro Attivare l'effetto di diametro Per rebornare uno dei nostri matmec Facciamo circolare Adesso Link Uribo E Wicked Vanno a fare Splash Mage E con Splash Mage Riporniamo l'ultimo matmec Che ci è rimasto Sottrazione E a questo punto Lo vedete anche da voi Abbiamo fatto Una lembertiana a 4 Che stacca Appunto 4 E aggiunge Nell'esempio in questione Baria dimensionale Quello che succede Che finisce qui Andiamo a settare Superfattoria Baria dimensionale Abbiamo i nostri 3 matmec Con nome diverso Tra cui diametro Quindi abbiamo fatto Un trisciolo omni negate Abbiamo Il floor gate pronto Abbiamo altre 3 carte in mano Il problema tecnico È che esteticamente È molto discutibile Questo Splash Mage Lasciato in questo modo Il problema è che Non possiamo farci Veramente nulla Se non Questo Però È un po' comunque Non dico scadente Perché avere Una baria dimensionale Contro un brand E despia Abbiamo vinto Quindi Ci sta anche Fare questo sforzo Possiamo fare Effetto All'ambertiano Tributiamo Magus Revochiamo Sigma Link 2 E abbiamo Una mascherina Che poi possiamo Usare il suo effetto Con il laplassiano Che vochiamo Per fare Un cavalli link Buonicorno Anche se io Personalmente non lo gioco Un hit soul Roba in questo modo È comunque fattibile Però C'è questo piccolo Difetto Però Ne vale la pena Probabilmente La seconda opzione È Cambiare la data Di Di circolare E prendere equazione Qui la cosa Cambia effettivamente Però Vediamo Lo vediamo insieme Quindi ripartiamo Di nuovo Con circolare E sottrazione Con la combo Numero 2 Circolare Effetto Manderà Ovviamente Sigma Fino a qui È praticamente Identico Circolare Sigma Effetto Circolare Cambia la data Adesso Come abbiamo detto Supponiamo di prendere Equazione Ecco Non dovete prendere Induzione Probabilmente In questo dato Perché non serve a molto Effetto Sottrazione Su circolare Come prima Facciamo Doppio link 1 Sempre uguale Identico a prima Quindi Discepolo Devoto Che ci loccherà Effetto Discepolo Tributa Peschiamo 1 Ripettiamo Un fondo E spammiamo Due token Presenti Continuiamo Stessa cosa Identica Adesso Qui Per fare La wicked Qui facciamo Linguribo Per effetto Della wicked Banniamo di costo Sempre 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 Devoto E prendiamo Il nostro Diametro Normal Diametro E vogliamo Circolare Tra l'altra cosa Non sto tutelare L'ambertiano Che facciamo In entrambi i casi È con diametro Quindi È anche Tutelato Da quantità Di modo Che possa succedere Qui di nuovo Facciamo Uno Splash Mage Per effetto Ritiriamo Su Sottrazione E poi X Isal 4 All'ambertiano Stacca 4 E ci aggiungiamo Barriera dimensionale E adesso Facciamo Equazione Sottrazione Va benissimo E andiamo E andiamo a fare Una mascherena Sottrazione Barriera dimensionale E adesso abbiamo Barriera dimensionale Una pollusa Da 2 In questo caso Però garantito Questa è quella Un po' più sconsigliabile Perché In l'altro caso Abbiamo Shift Abbiamo Scusate Shift Abbiamo un trisciula Con la plosciano E abbiamo Comunque la mascherena Che può portare a fare Un itzol Pescare Entrap Quindi sicuramente Conviene la prima Questa può essere Una versione alternativa Al momento in cui Magari al nostro avversario La plosciana Non fa troppo male Abbiamo Un buon numero Di entrap E quindi Forse ci conviene O magari Contro un dry Un dry Un dry Un apollusa È molto meglio Con questo possiamo Bloccare I rituali E ci può stare Quindi Vedete un po' In base alla situazione Quali delle due scelte Così a blind La prima è sicuramente migliore Quindi ragazzi Questa è la fine del video Era un video molto semplice Ma solo per mostrarvi Queste due combo Veramente interessanti Ringrazio ancora Il contatto E me l'ha fatto sapere E se scopite altro Benvenga Fino ad allora ragazzi Non mi rimane Che salutarvi E dirvi che ci vediamo Al prossimo video